L'intervento nel pomeriggio di venerdì 22 novembre dei vigili del fuoco di San Maurizio Canavese in frazione Betremme di Chivasso. I volontari hanno recuperato, salvandolo, un cerbiatto che era finito nella roggia e non riusciva a risalire. Recuperato è stato portato all'asciutto, tremante, evidente principio di ipotermia vista la temperatura dell'acqua, ma apparentemente non ferito. Sul posto è intervenuto anche il cance, centro animali non convenzionali di Grugliasco, al quale è stato affidato dopo un primo controllo in loco per accertamenti sullo stato di salute e cure. Grazie. 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 Grazie a tutti.